Guarda, parto dalla fine, per quanto riguarda le assenze non sono il tipo che cerca nessun tipo di alibi, i giocatori che ho sono questi e va bene così, e la partita la rigiocherei 15 volte anche senza Palasio, perché poi l'Inter non è che può dipendere da un giocatore, che poi Palasio abbia caratteristiche diverse, perché oggi ci sono tutti i giocatori che vengono incontro e lui è l'unico che può galleggiare sul filo del fuorigioco, questo è un altro discorso.